La weekend league, l'adientivo che consentirebbe l'ordio. Prano intervento nel portiere, questa è l'occasione per passare in vantaggio. Refinge il primo tiro. C'è spazio per andare. Bamba! Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. È arrivato dunque il gol del pareggio. Modric, occhio a Mertens, ha spazio davanti a sé. E il pallone in rete. Il pressing qui ha dato i suoi frutti permettendo di recuperare. Occasione importante per pareggiano. Portiere che è lontana senza problemi. È rigore, nessun dubbio per il direttore di gara. Anche a me è sembrato che fosse completamente fuori tempo. Poi, darvi vicino l'azione. Non mi pare ci siano dubbi su questa decisione. Rigore e ovviamente anche il cartellino giallo. Rigore trasformato con grande freddezza. Siamo 3-1. Magari non... Pogba può colpire da lì. Attenzione perché è pericoloso. Accorciano le distanze. Ce ne vuole un'altra adesso, ovviamente, per pareggiare. Gomez. Apu Gomez. Ecco gol. No parla. Amiga, no parla. Grazie a tutti